Bella a tutti ragazzi in questo nuovissimo video Sinner riesce a battere Alex Deminaur ATP di Sofia vincendo 2 a 1 e con un grandissimo terzo set vinto 6 a 1 per l'italiano che riesce a qualificarsi in questo torneo andare avanti e domani troverà in semifinale Mannarino e veramente Sinner deve andare dritto e deve riuscire a vincere questo torneo in primo set ci sono state comunque le scorie riportate nelle partite precedenti dei due tennisti quindi sbagliavano comunque abbastanza rispetto ai loro standard ok quindi sbagliavano molto ci sono stati due break sia da una parte che dall'altra per poi arrivare al fatidico tie break dove Deminaur è riuscito a battere se non ricordo male 7-3 o si 7-3 Sinner comunque un Sinner che non si è metamoralizzato ha sempre cercato di portarsi in vantaggio di sfruttare al meglio l'occasione infatti possiamo vedere che in risposta in totale in totale 45 punti solo risposta Deminaur 26 secondo set troviamo un Sinner che non è che ha avuto strada facile anzi ha avuto molte difficoltà soprattutto nel secondo game dove è andato ai vantaggi e comunque a rischio ok break subito in apertura appena lui stava al servizio poi fortunatamente è arrivato il break da parte di Sinner dopo un game abbastanza rocambolesco dove ha avuto anche molte palle alla fine per riuscire a breakare è riuscito a sfruttarne almeno una è riuscito a portarsi a casa questo break nell'ultimo game invece a servizio Sinner per confermare e quindi vincere il secondo set ha concesso diverse palle break a Deminaur che fortunatamente non è riuscito a cogliere e con vari errori anche di Sinner comunque perché veramente errori di lunghezza che neanche io raga sto male perché dopo aver visto la vittoria di Caruso ieri sugli errori di misura di Agliassim veramente ogni volta che vedo un errore di misura penso sempre alla partita di ieri di Agliassim che mi ha fatto abbastanza smadonnare il secondo set parte alla grandissima se il primo servizio Deminaur breaka subito Sinner quindi ottimo ok subito boh breccato il secondo tiene abbastanza facilmente il servizio terzo game servizio Deminaur e ancora c'è il break ancora c'è il break un grandissimo Sinner che lascia veramente un solo game a Deminaur che si porta quindi in semifinale ragazzi questa partita ragazzi era stata definita come la finale in questo torneo perché Deminaur e Sinner sono i due più papabili ok dei finalisti perché poi vabbè sono rimasti chi è? Milman oggi c'è pure Gaske Caruso però alla fine di giocatori importanti erano Deminaur Sinner Shapovalov che vabbè e Agliassim ok quelli che dovevano comunque convincere in questo torneo i due Agliassim e Shapovalov non hanno convinto Sinner e Deminaur sono scontrati oggi Sinner ha vinto quindi Sinner dovrebbe dovrebbe vincere il torneo io ora lo dico basta basta comunque dal vostro x video è tutto lascio delle commentate e schiacciatevi bella a tutti grazie a tutti